e allora amici miei nuovo argomento di gossip tenete presente io insomma adesso sto cercando di avvicinarmi piano piano oggi parliamo nuovamente di argomenti di gossip legati al calcio però piano piano poi parlerò anche di altro o meglio leggerò e commenterò anche altro oggi leggiamo questo qui tatuaggi no grazie da cr7 a chiellini sono i giocatori che hanno detto no al tattoo ora io vi dico subito la mia poi vado a leggere la mia è questa qua allora a me i tatuaggi non dispiacciono personalmente non li ho però non è una cosa che giudico male innanzitutto il tatuaggio deve avere un significato un significato quasi spirituale per me è cioè nel senso non è che mi piace che ti posso dire una donna nuda e me la tatuo qua secondo me non c'è senso secondo me dovrebbe essere veramente un significato spirituale o sentimentale e poi dovrebbe essere un qualcosa di ricercato che ti posso dire sono un pugile mi faccio il guantone da box no allora cerco magari un tatuatore che mi fa un disegno che possa richiamare alla box però magari partendo da altro non lo so deve essere un qualcosa che tu quando lo dici però vedi cazzo guarda che bel oltre che bel disegno guarda che bel messaggio che vuole mandare come c'è là che ti posso dire Nainggolan che è tutto tatuato dalla testa ai piedi con peso e il collo a me non piace quel tipo di situazione là però voglio dire poi ognuno non giudico nessuno sono soltanto dicendo che io non lo farei andiamo a leggere l'articolo e poi chiaramente scrivetemi sotto il vostro pensiero che tatuaggi avete dove li avete qual è il messaggio che volete comunicare con questo tatuaggio perché poi la maggior parte dei tatuaggi noi non li vediamo ci vedono altri per cui dice non è che me lo faccio per guardarmi ma ammazza quanto è bello no li vedono gli altri per cui noi stiamo comunicando qualcosa agli altri quindi scrivetemi sotto nei commenti che cosa volete comunicare allora leggiamo non tutti i calciatori della nostra serie A hanno accettato di farsi tatuare il corpo tra i più importanti ce ne sono alcuni che sono dei veri campioni assoluti tra questi c'è Cristiano Ronaldo il campione della Juventus che per non rinunciare alla donazione del sangue ha deciso di lasciare il suo corpo così com'è beh questo è bellissimo questa è veramente una cosa bella io non ci avevo pensato adesso leggendo giustamente mi sono ricordato che se uno è tatuato non può fare il donatore quindi innanzitutto se tu sei un donatore sei una persona buona altruista che pensa agli altri e quindi giustamente non si fa tatuato beh guarda non la sapevo questa complimenti veramente a lui va bene andiamo a vedere poi chi altro vabbè qui giustamente dà la motivazione poi cr7 rifiuto dei tatuaggi si è congetato con la doppietta del parma vabbè questa è chiaramente una spiegazione del perché ma l'abbiamo già detto poi quel bravo ragazzo di Bonaventura sarà sicuramente da dimenticare la stagione di Giacomo Bonaventura beh questo è chiaramente un articolo vecchio spesso vedo tanti miei compagni questo è lui il virgolettato vedo tanti miei compagni con il corpo tutto tatuato o almeno una parte di esso sono simpatici ma io ancora non mi ci vedo magari un giorno ci ripenserò ma ad oggi sto bene così questo è il pensiero di Alexa davanti di Marcella poi Chiellini un duro anche senza tatuaggi sì perché è vero che comunque il tatuaggio te dà l'idea di durezza di cattiveria di uno che è stato ad Alcatrazza capito e invece Chiellini è un duro anche senza tatuaggi vediamo dove che parla di questa cosa per quanto riguarda la sua persona il laureato Chiellini oltre all'amore per la playstation ci gioca 7-8 ore ce la diventa stupidi e per gli smartphone non è un fan dei tatuaggi non mi sono mai piaciuti quando c'era ancora Conte in panchina in squadra avevamo Pepe che ogni volta si presentava con un tattoo diverso nello spogliatoio io lo prendevo sempre in giro sono Agusti lo so ma io proprio non ci riesco a farli forse un domani quando nascerà mio figlio non so se nel frattempo questo è un articolo un po' vecchio non so se è nato e anche Gigio Donnarumma non è tatuato perché c'è stato proprio un diniego del padre no a tatuaggi ed orecchini e quindi nemmeno lui va bene insomma questi sono i principali campioni della serie che hanno detto no al tatuaggio io il mio pensiero ve l'ho detto non sono contrario al tatuaggio ma deve comunicare un qualcosa e deve essere un qualcosa di spirituale o di sentimentale e vorrei sapere sotto di voi sotto di voi oggi in cesso ragazzi e che devo leggere queste cose ma io posso leggere queste cose ma a me che cazzo me ne frega se questi c'è di tatuaggio e che ormai ho deciso di convertire il canale anche a gossip e almeno per un mese due mesi quello che è insomma per vedere come evolve la situazione parlerò anche di gossip ma a me sinceramente se questi sono tatuati o no me ne può fregare di meno vi auguro una buona serata ciao